70 sacchi pieni, tanti rifiuti speciali raccolti dai volontari di ogni età che ieri mattina a Esernia hanno aderito alla campagna nazionale di raccolta rifiuti lanciata dalla ONLUS Plastic Free. I partecipanti, dopo il ritrovo e le procedure di accreditamento in base alle disposizioni anti-Covid, hanno bonificato, armati di guanti, sacchi e bastoni, alcune aree del quartiere San Lazzaro di Esernia. Soddisfatti gli organizzatori del bottino e della partecipazione numerosa dei cittadini. Plastic Free ONLUS è un'associazione di volontariato nata nel 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica che non solo inquina, bensì uccide. Nata come realtà digitale nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre 550 referenti in tutta Italia, si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica. Sensibilizzare sulla pericolosità della plastica che ogni anno diventa un problema davanti ai nostri occhi, si inquina sempre di più e può essere un problema non solo per gli animali ma anche per l'uomo, anche nei mari, anche negli aiuoli. Insomma, lo vedete, lo vedete, è sempre più sporco ma dovrebbe partire prima di tutto da noi, dal gesto, non buttare proprio nulla a terra. Tre volontari presenti all'iniziativa Plastic Free, anche una nutrita rappresentanza del club alpino italiano di Isernia. Sono molto felice che hanno aderito anche molti soci del CAI, mi hanno scritto molto, sono stati partecipi. È fondamentale per noi, il nostro codice etico, partecipare a questa giornata perché difendiamo la natura, difendiamo l'ambiente, quindi nella nostra sezione ci sono anche operatori tutela ambiente mondano, quindi è significativo per noi partecipare a questa giornata.